forza preparatevi dobbiamo già andare devo assolutamente portare la canna da pesca e io parto con me la palla a me serve il materassino gonfiabile e la pompa per gonfiarlo tutto pronto andiamo che bello niki gonfia il materassino per favore e io spendo il tela che bello adesso si può nuotare adoro pescare io nel frattempo mi abbronzo Patrick gioca ma fai attenzione e non andare sulla strada che bello che bello che bello che bello che bello che bello che è successo povero Patrick si è spaventato io stavo guidando tranquillamente e all'improvviso sulla strada è comparso un piccolino ho inchiodato il mio carico di palline si è rovesciato tutto mi scusi per favore ero così intanto a giocare che non ho nemmeno notato che stavo andando sulla strada l'importante è che tu non ti sia fatto niente Patrick e le palline possiamo sempre raccoglierle e come facciamo a tirare fuori le palline dall'acqua? so io cosa fare mi aiuterai il top bulldozer adesso raccolgo tutto ottimo ci rimane soltanto da caricare tutto nel cassone grazie top bulldozer abbiamo raccolto tutte le palline grazie per l'aiuto fate attenzione per la strada arrivederci arrivederci papà che bello il tuo top bulldozer posso montarci? certo dai facciamo un giro tutti insieme che bello ciao 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 ciao